Un libro che ripercorre mille anni di storia della Val di Scalve attraverso le figure dei sacerdoti, degli arcipreti e delle personalità religiose che hanno vissuto e operato a Vilminore di Scalve. È stato presentato questa domenica 27 dicembre nelle sale del Centro Culturale Papa Giovanni XXIII alla presenza del Vicario Generale della Diocesi di Bergamo, Don Davide Pelucchi, e del suo autore e ideatore, Monsignor Gaetano Bonicelli, nativo proprio di Vilminore. Nella vigna del Signore. Qui naturalmente la vigna non c'è perché a Vilminore la vigna non viene, ma la vigna è il tipo evangelico per dire il campo di lavoro per cui si costruisce il Regno di Dio. Ecco, in questo caso anche in Val di Scalve dunque si può parlare della vigna del Signore. Il libro è un'occasione per conoscere un passato che si riflette chiaramente nel presente di una valle e di un popolo le cui radici sono intrecciate con la storia e la presenza della Chiesa in questi luoghi. I documenti antichi parlavano o non parlavano né di Vilminore, né di Scilpario, né di Buesco. Scalve. Scalve era un po' tutta la zona in cui compluiva la gente, anche per i suoi affari. Qui a Vilminore c'era il governo, il potestà, nominato da Venezia, e perciò avevano tutto la loro... e sul piano ecclesiastico, è quello che interessa a questo libro, c'era un arciprete che era il riferimento per tutta la valle di Scalve. Man mano, nei secoli successivi, cioè 1200, 1300, 1400 in avanti, le singole comunità che minutamente esistevano anche allora, hanno trovato una loro autonomia e sono diventate le parrocchie della valle di Scalve. Un presente consapevole, quindi, che apra la strada per un futuro migliore. L'opera è stata concepita e curata da Monsignor Bonicelli, ma ha visto la collaborazione di un altro studioso e scrittore bergamasco, Angelo Pesenti, con l'aiuto di due redattrici di Vilminore di Scalve. Assunta Tagliaferri e Miriam Romelli, che avendo già fatto lavori di questa ricerca di archivi, hanno veramente dato un contributo notevole. Io ho coordinato, naturalmente, tutto quello che mi pareva giusto da fare.